E ora prima di andare avanti con le altre notizie e gli altri servizi voglio soffermarmi su qualcosa di molto positivo di cui ieri ne abbiamo già parlato e che riguarda un comunicato stampa dell'assessore Mino Borraccino, il titolo bellissimo già di per sé, ok dal contratto istituzionale di sviluppo alla realizzazione della nuova sede del corso di laurea in medicina presso la sede dell'ex Banca d'Italia di Taranto. Vedete questo bellissimo palazzo che si trova nella bellissima piazza Ibalia di Taranto che guarda alla rada di Margrande, un'opera architettonica veramente molto bella, la Banca d'Italia se n'è andata, quello fu un discutibile evento. Però intanto dice giustamente l'assessore Borraccino, come più volte ha definito il presidente Emiliano, la regione Puglia farà tutto quello che nelle sue competenze per favorire la più rapida realizzazione possibile di questo progetto che finalmente potrà dotare Taranto, già da quest'anno di un autonomo corso di medicina, un obiettivo strategico che come governo regionale stiamo perseguendo. L'immobile sarà acquistato dalla Asla di Taranto con fondi messi a disposizione dalla regione Puglia attraverso una rimodulazione degli interventi previsti dal CIS. A questo straordinario risultato per tutta la comunità ionica si arriva a continua Borraccino dopo un percorso avviato circa due anni fa, partito dal basso, grazie all'importante gioco di squadra messo in campo da tutti i soggetti istituzionali, dal governo alla regione Puglia, dal comune di Taranto alla provincia, dalla Asla di Taranto sino infine ma non certo da ultimo all'Università di Bari. E l'assessore Borraccino, vedete questa foto, ce l'ha fornita lui. Questa è una foto che magari entrerà nella nostra storia. Il 30 gennaio del 2020, in occasione della conferenza dei servizi decisoria, svoltasi presso la direzione generale della Asla di Taranto e alla quale partecipammo per la regione Puglia con il presidente Emiliano, appunto, Mino Borraccino, il capo dipartimento politico e per la salute, il dottor Montanaro, per l'università il magnifico rettore Stefano Bronzini, il preside della facoltà di medicina Tino Gesualdo, il direttore generale della Asla, l'avvocato Rossi, il sindaco del comune di San Giorgio Ionico, Mino Fabiano, anche rappresentanza della provincia, per il comune di Taranto, il direttore generale Ciro Imperio. Perché vi ho voluto dare questa notizia? Ma perché ogni tanto, in mezzo alle tragedie di cui parliamo, dobbiamo parlare anche di quello che accadrà, Allora immaginate, la sede di medicina finalmente nel cuore di Taranto, nella bellissima Piazza Ebalia. Ecco, grazie all'assessore Borraccino che ci ha dato questa notizia e naturalmente ci fa riflettere anche su un altro aspetto, quando lui dice tutti gli enti, tutte le istituzioni assieme a lavorare. Vedete, quello che stiamo vedendo a livello nazionale, personalmente, non mi piace molto. Questa divisione tra maggioranze e opposizioni nel momento in cui parliamo di decine di migliaia di morti, parliamo di una aggressione, quella del virus, alla nostra società, alla nostra civiltà. Insomma, la politica dovrebbe litigare davvero di meno e lavorare di più come in questo caso.